Conclusione del Gran Premio Liberazione Pink, Letizia Paternoster, avete sorpreso tutte nel finale, poi una grandissima volata. Sì, sono davvero contenta, ho sentato sensazione, volevo riuscire a coronare questa vittoria quest'oggi e però faccio, sono davvero contenta. Per te è un ottimo obbio di stagione, un decimo post alla Gantre Velgham, ti sei già inserita molto bene in questo mondo dell'elite? Sì, ancora non ti credo, io sto facendo ciò che amo fare, mi sto allenando, sto cercando di crescere con calma e senza fretta, infatti ho corso pochissime gare fino ad oggi, ne ho fatte tre, questa è la terza e tutte le volte che mi corro voglio dire sopporare il gusto di correre, di divertirmi e facendo ciò ho anche sorpreso di coronare. Così, Red, uscire da un'annata e da un'inverno particolarmente intensi, come procedono i lavori su pista? Pista, adesso da maggio inizierò di nuovo a correre in pista, ho preso i primi obiettivi, così là di luglio, avrò i campionati europei, su strada Under 23, su pista Donne Elite e poi intanto cercherò di prepararmi per là. E finora il primo obiettivo però è sempre la scuola perché fa la maggiorità.